doppia mostra palazzo san cristoforo sede della provincia di lodi in occasione dei 30 anni di vita dell'ente pubblico di concomitanza con la festa della donna è possibile apprezzare due rassegne distinte ospitate nel chiostro interno dell'ex convento e nelle sale interne del vasto edificio per iniziativa dell'associazione toponomastica femminile è stata allestita anzitutto la rassegna che fa memoria delle 21 parlamentari donne che parteciparono alla costituente della repubblica per iniziativa invece dell'associazione indaco donna nelle sale del palazzo provinciale hanno trovato posto gli abiti da sposa donati da ceciglia spondrini e rielaborati dagli utenti del dipartimento di salute mentale di lodi col progetto ricostruzione contro la violenza alle donne che sono stati oggi o che è Grazie. Grazie.